Un saluto a tutti cari amici, stiamo per vedere insieme una trappola d'apertura giocata nel 1750 dal legal contro Sambri, uno scacco matto che ispirò anche un famoso poema. Partiamo! Legal di bianco apre con E4, Sambri risponde con E5, cavallo in F3, cavallo in C6, alfiare in C4 la partita italiana. Il nero continua con D6, sviluppo del cavallo in C3, alfiare in G4 inchioda il cavallo sulla donna, ma il bianco gioca una trappola che appunto verrà conosciuta, verrà ricordata come lo scacco matto di legal. Il cavallo rompe l'inchiodatura, cavallo cattura in E5, se il nero, come è successo in partita, cattura la donna e è perduto, l'alfiere cattura la donna in D1, alfiere supportato dal cavallo da scacco in F7, re in E7 mossa unica, cavallo in D5, scacco matto. Ma attenzione perché la trappola di legal è sbagliata, nel prossimo short vedremo perché e come invece migliorarla. A presto!